www.vorizoporio.it, oggi voglio parlare della garanzia Archimede di Sace, è operativa questo strumento previsto dalla legge di bilancio del 2024 a supporto degli investimenti delle piccole e medie aziende italiane effettuati sul territorio nazionale, investimenti in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile. Questa garanzia Archimede supporta, come dicevo, i finanziamenti e cauzioni della durata massima di 25 anni, senza limiti di importo erogati dal sistema bancario all'impresa italiana, come dicevo, garantendo fino al 70% dell'importo stesso. Quindi lo strumento è lasciato a condizione di mercato, vi riporto poi qui il link direttamente all'ingrisace e vi ricordo che viene richiesto direttamente dall'istituto bancario che istruisce alla pratica per questa garanzia fino al 70% per le piccole e medie imprese. Una buona lettura e buoni investimenti!